La presenza di Genova all'Expo è una grande occasione, l'Expo è un'occasione, l'occasione di far vedere la qualità all'interno delle qualità e dei problemi del pianeta sul cibo, le tante qualità dell'Italia, della Liguria e quindi di Genova. E' quello che noi abbiamo fatto oggi, Genova è una città splendida di storia, di cultura, di arte, ha mostrato le sue bellezze che possono essere godute dai cittadini genovesi, da tutti coloro che a Genova si recano, ha mostrato anche la sua qualità gastronomica della cucina, si parla di cibo, di cibo che è anche cibo di qualità e noi abbiamo tanti tanti prodotti di qualità da offrire. Siamo qui all'Expo in una splendida giornata vivace, Genova si presenta al vasto pubblico e alla stampa, Genova il mare dell'Expo con dei dati turistici che sono in assoluta crescita, questo primo trimestre 2015 un più 8% e una grande affluenza dei turisti esteri soprattutto intorno al 25%. L'invito a tutti i visitatori di Expo è di venire a Genova, una serie di servizi e un'accoglienza particolare sono state organizzate, il collegamento in bus tutti i giorni e uno sconto particolare che presentando il biglietto di Expo gli albergatori offriranno proprio in segno di accoglienza. E inoltre una città di mare che nel periodo estivo è ancora più vivace non solo grazie al suo patrimonio ma anche grazie alle tante iniziative musicali, i festival e tutto quanto troveranno a Genova chi vorrà venire nel periodo estivo.